Partendo dal fiore dell'antunium, che non è questa parte rossa, ma è questo pennacchio, con dei piccoli trucchi si possono ottenere poi internissime pientine nuove. Se il fiore sarà fecondato, inizierà a formare queste escrescenze, che non sono nient'altro che i semi veri e propri. E quando loro saranno completamente secchi, il fiore potrà essere raccolto e i semi utilizzati. Basterà fare questa operazione. Andare e tirare via. Eccolo qua. Da un unico fiore abbiamo ottenuto ben sei piccoli semi. Fare un foro nel centro, circa un centimetro di profondità, prendere uno dei semi ottenuti e andarlo semplicemente a fare cadere all'interno, così. Dopodiché, rinzaffare il terreno tutto intorno e bagnare. Dopo 30 giorni si può notare che dalla terra è spuntato un piccolo germoglio. Dopo due mesi, la prima fogliolina è diventata alta circa 4 cm e alla sua base se ne è formata un'altra. Dopo il quinto mese, la pianta ha creato tantissime foglioline e adesso è alta circa 10 cm. Trascorso poco più di un anno, questo è il risultato che si è ottenuto una pianta adulta che ha iniziato addirittura a fare dei fiori assolutamente incredibili.